Musica Stiamo facendo le foto ricordo ai ragazzi Sì certo, il primo giorno di scuola è un giorno importante per tutti quanti gli allievi e speriamo che quest'anno sia un anno produttivo per tutti senza interruzione di Covid e di quant'altro Selfie e foto ricordo per incorniciare il primo giorno di scuola in alcuni casi i genitori e figli condividono insieme le emozioni e l'ingresso dell'istituto non mancano amuleti portafortuna e piccoli gesti scaramatici da parte dei ragazzi che si caricano intonando canzoni e cori di incitamento prima dell'appello della cattedra intanto l'accoglienza dei ciumbriani animata dai sorrisi delle docenti che indirizzano con i cartelli gli alunni in classe dai via Pescatori e via Morelle Silvati per la comunità degli imbriani è anche il primo giorno presso la nuova sede nel plesso dell'ex geometra benvenuti a tutti come strillano gioiosi e colorati gli striscioni esposti all'ingresso del liceo certo, molto emozionato, si aspetta per entrare, l'orario dovrebbe essere otto e un quarto però tutti stanno aspettando da tanto tempo, da quanto ho capito già dalle sette e mezza tutti sono iniziati a mettersi in fila credo che i Pink Floyd ti tengono compagnia certo, certo tanta emozione, tanta nuova voglia di conoscere i nuovi compagni di scuola e i nuovi professori cosa ti aspetti da quest'anno? beh, niente, cioè che mi diverto, che studio e che faccio nuove conoscenze prima di scuola per curiosità cosa si porta nello zaino? beh, io ho messo due quaderni, un italiano e matematica, poi l'astuccio e il diario il tuo portafortuna? è questo, la colonna di nonna grazie noi siamo sempre emozionatissimi perché l'accoglienza, soprattutto del primo giorno delle classi prima e il primo impatto ti durerà per tutti e cinque gli anni ciao, in bocca al lupo, vuoi salutare qualcuno in particolare? saluto a mamma, a papà e alla mia famiglia, ciao ciao a tutti ciao mamma cosa ti aspetti da quest'anno scolastico? mi aspetto che andrà bene, sia per noi alunni che per gli insegnanti e spero che tutti potremo collaborare insieme e fare un buon lavoro anche per il papà è il primo giorno di scuola sì, il primo giorno c'ho probabilmente l'ansia più di mia figlia quindi dovevo esserci fortunatamente la mamma purtroppo no perché è al lavoro quindi è toccata a me accompagnarla a scuola per il primo giorno speriamo che sarà un buon anno per tutti i ragazzi che praticamente dopo questa pandemia passata insomma riescono a trovare un po' di equilibrio, un po' di continuita scolastica che tutto vada bene per tutti i ragazzi la raccomandazione che ha fatto la sua figlia? è quella praticamente di stare attenta, di studiare, di impegnarsi di essere sempre se stessa insomma che sia un buon anno per tutti i ragazzi ha fatto la foto? ne ho fatte tante, ne ho fatte tante sì, con mia moglie via whatsapp e lei è contenta, emozionata e effettivamente mi sento come se fosse il primo giorno anche per me in questo momento avete fatto squadra, anche voi genitori? sì, ci conoscevamo già prima quindi abbiamo fatto una scelta condivisa con altri genitori insomma ah, quindi la scuola scelta per i figli e con gli altri genitori? con altri genitori, sì, sì diciamo, più l'emozione è forse più dei ragazzi in questo momento anche se è molto carino accompagnarli cosa ha detto a suo figlio? ma nulla di particolare è tutto fisiologico, è normale insomma si deve divertire, deve imparare e divertirsi perché si possono fare due cose insieme tranquillamente il primo giorno di scuola come ti senti? ti è emozionato? sì, felice di ritornare anche abbastanza, più o meno sì, cosa hai portato con te? un paio di quaderni a righe, un paio di quaderni a quadretti porta fortuna, superstizioso? no cosa ti aspetti da quest'anno? non lo so, spero di divertirmi e di imparare tu invece come stai? tranquillo infatti si vede tranquillissimo hai dormito tranquillamente stanotte cosa hai pensato in particolare? eh no, avevo un po' di paura più che altro per i professori però come sono? però invece si sono dimostrati ah, ce li hai conosciuti? eh no, sicuramente era prof di sci a primo impatto com'è, simpatica? sì cosa ti aspetti da quest'anno scolastico? eh nulla, di imparare molto e fare anche nuove amicizie tu da dove vieni? io vengo da Avellino da Valle più precisamente cosa si prova quest'anno, Presidente? siamo ovviamente emozionati siamo, come dire, intenti nel cercare di garantire agli studenti tutto ciò che è necessario perché possano naturalmente percorrere anche quest'anno scolastico al meglio e soprattutto raggiungendo gli obiettivi che ci siamo proposti è chiaro, siamo emozionati perché lasciamo un edificio che è entrato nel cuore di tutti ma siamo fiduciosi che il futuro ci darà la possibilità di avere a disposizione una struttura ancora più efficiente ancora più utile per i nostri studenti ha dato già un'occhiata alla nuova sede? sì, assolutamente sì ho trascorso l'estate in questa nuova sede quindi la conosco bene siamo soddisfatti riteniamo che la soluzione trovata dall'ente proprietario la provincia di Avellino sia stata una soluzione ottimale si dice in bocca al lupo anche per i presidi sì e anche i presidi rispondono viva il lupo la prima cosa che devono fare devono studiare perché oggi come oggi senza studi senza un appoggio non possiamo andare avanti ho bisogno frequentare scuole lei di dov'è? io di Capriglia ah, è venuta come sorella maggiore noi stiamo scherzando sono mamma una mia figlia è già si diplomata in scuola in Briani musicale una bella scuola imparano un strumento musicale sono contenta giovanissima come una sorella tra l'altro probabilmente la campanella suonerà anche per lei tra poco magari tornassi trent'anni fa bellissimo comunque da dove vieni? a Avellino com'è andata? tutto bene? mica tu l'autotrappico? no, no, no tutto a posto cosa si proda un genitore come lei? nulla di che cosa ha detto al suo figlio prima di entrare a scuola? no, niente di particolare diciamo raccomandazioni che lui già conosce in particolare di comportarsi bene di essere attento in bocca al lupo in bocca al lupo si è della polizia di stato? si vorrebbe anche il suo figlio in polizia? si sarebbe bello però però adesso la scuola prima la scuola prima la scuola e poi il lavoro si pensa mi sembra una buona partenza anche rispetto alla vicenda traffico ovviamente si è registrato qualche rallentamento ma quando ci sono circa 15.000 studenti che popolano la città con anche i genitori che magari al primo giorno di scuola vogliono accompagnarli o ci sono tanti autobus che riprendono le corse è evidente che ci possa essere qualche rallentamento però non ho notizia di particolari problemi per quanto riguarda gli auspici noi stiamo facendo grandi interventi anche di ristrutturazione di riqualificazione degli istituti scolastici cittadini c'è anche la provincia che per la verità ha avviato alcuni interventi e mi pare che tutto stia proseguendo e andando nella direzione giusta certamente come sapete c'è l'intervento più importante quello che riguarda la Dante Alighieri abbiamo affidato i lavori quindi a breve si partirà con l'abbattimento dell'istituto e quindi con la realizzazione di un nuovo campus altri interventi sono previsti sul Perna e stiamo immaginando anche interventi sulla Da Vinci e sulla Solimena insomma c'è un settore che si occupa specificamente dell'edilizia scolastica e che è sempre attento al reperimento di fondi altri invece per quanto concerne la manutenzione ordinaria ovviamente li destina il comune nel proprio bilancio grazie a tutti Grazie a tutti.